Arriva anche a Marsala lo street control, la terribile telecamera mobile ad altissima definizione pronta ad immortalare colori quali non rispettano il codice della strada. Una tecnologia già usata a special Nord Italia che è recentemente sbarcata a Palermo dove le multe a tappeto sono all'ordine del giorno. Il sindaco marsalese Alberto Di Girolamo ha voluto mettere subito le mani avanti contro le male lingue su presunti tentativi del comune di fare cassa. In realtà, ha evidenziato il primo cittadino, si sta lavorando su un'attività di prevenzione che l'amministrazione intende portare avanti, trovando in tal senso la condivisione del presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano. Non ci interessa fare multe ma evitare incidenti, ha affermato più volte il sindaco. Gli strumenti di cui stiamo dotando la polizia municipale sono ausili che vanno in questa direzione perché fanno in modo di educare l'automobilista a farlo mettere alla guida secondo le regole. Se è vero, ha aggiunto il comandante dei caschi bianchi Vincenzo Menfi, che tra le principali cause di incidenti c'è l'alta velocità, è pur vero che tante altre imprudenze vi concorrono. In tal senso, la nuova telecamera street control costituisce anche un deterrente per evitare trasgressioni al codice della strada, consentendo altresì di snellire il lavoro amministrativo e burocratico della polizia municipale. Questa telecamera ad alta tecnologia verrà installata su un'auto della polizia municipale e faciliterà il controllo delle automobili in sosta. In tempo reale sarà possibile accertare infrazione nel codice della strada, dal parcheggio in doppia filo e in divieto di sosta alle auto sprovviste di assicurazione, a quelle con la revisione non in regola. La telecamera cattura le immagini, fa un controllo incrociato con le banche dati di polizia, anche per vedere se l'auto è stata rubata, e motorizzazione civile, e poi trasmette il tutto al tablet in dotazione. Una volta accertata l'infrazione, il vigile dà l'ok alla sanzione, che arriverà a casa del proprietario del veicolo, da considerare che a Marsala si parte con il favore normativo riguardo alle multe a strascico elevate dalla polizia locale, passando lungo strade e viali cittadini. Queste sono state ritenute legittime, secondo quanto stabilito dal parere del Ministero dei Trasporti, mettendo fine a anni di contenziosi ricorsi.